Chiara, veramente emozionata, è tornata da New York e è andata a prendere Vittoria Leone a scuola e poi a Luna Park. Sono andata a prendere i bimbi a scuola e li ho portati a Luna Park, che è una delle attività che mi piace fare di più con loro, portarli al parco o sul trenino, così io ho Luna Park e non so, è stato bellissimo il momento in cui li ho visti, veramente, in questi momenti essere genitore ti salva un po' la vita, veramente. Chiara è emozionata e ci racconta come gli sono mancati, in più in questi momenti gli salvano la vita.